ecco domenica finalmente riprendono le nostre visite di architettura fisicamente passeggiando nei quartieri e non e non con le modalità che abbiamo imparato utilizzare in questo periodo basate appunto sulla comunicazione video potremmo incontrarci quindi l'appuntamento è alle 10 domenica 16 maggio nei pressi del planetario di porta venezia visiteremo appunto il quartiere omonimo pretesto per poter discutere su un argomento molto interessante che il passaggio l'evoluzione linguistica artistica architettonica tra 800 e 900 se nell'ottocento il tema dello storicismo era centrale recupero dei canoni degli stili architettonici del passato era secondo un'accezione mimetica lo strumento espressivo principale ecco nel novecento il lo sguardo rivolto al passato uno sguardo molto diverso uno sguardo niroco uno sguardo critico uno sguardo interpretativo il passato è ancora presente ma in qualche modo è declinato attraverso una sensibilità personale estremamente sofisticata degli autori che incontreremo piero portaluppi aldo andreani ulisse ulisse arata ecco recuperano le forme del passato ma sembrano proiettarle in un in un futuro sempre più vicino c'è un'accelerazione c'è una dilatazione delle 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 esperienze delle espressioni delle delle forme delle forme stesse i canoni tipici tipica tipici dell'ottocento sono per quanto ancora in qualche modo molto vicini sono evidentemente stravolti da un'estetica assolutamente rinnovata il rapporto con il tempo cambia il rapporto con il passato il rapporto con il futuro sembrano sembra essere come dire il motivo della della riflessione principale dei 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 nostri autori sfugge il presente il presente in qualche modo sembra sembra essere appunto una una sorta di di lotta tra uno sguardo rivolto al passato e uno sguardo sempre più intenso rivolto rivolto al futuro ecco si tratta di autori diversi si tratta di un dibattito molto ampio molto diversificato in qualche modo noi dovremmo ovviamente fare fare una sintesi e fare una riduzione di 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 del discorso ovviamente evitando banalizzazioni evitando semplificazioni ma in qualche modo cercando di toccare alcuni punti di di grande di grande interesse il planetario stesso che è una specie di pantheon che però qualche modo guarda verso il cielo guarda verso le stelle quindi il primo simoro il primo simoro e è presentato il il bellissimo edificio che ospita il museo il museo di scienze naturali che una specie di enciclopedia di linguaggi esotici no sembra quasi di di vedere un edificio che arriva direttamente dalle indie dal nord africa con dei caratteri anche stilistici dal punto di vista puramente grafico della 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 comunicazione immediata e superficiale che hanno che hanno rimandi rimandi lontani attraverseremo il corso e passeremo attraverso il grande arco trionfale disegnato dal portaluppi e che ci introdurrà ci introdurrà nel 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 quartiere nel cuore del quartiere poi visiteremo appunto palazzo fidia con le sue con le sue macroscopiche forme il palazzo il palazzo disegnato da aldo andreani con qualche modo delle dissonanze estremamente estremamente forti estremamente interessanti fino ad arrivare alla più piccola più contenuta ma che già in qualche modo un manifesto dell'architettura moderna villa villa necchi campiglio disegnata sempre dal portaluppi insomma una una sintesi di linguaggi una sintesi espressiva artistica ed estetica estremamente estremamente potente estremamente raffinata colta che vale la pena la vera vale la pena riconoscere sia per per quelli che non hanno mai visitato e mai attraversato questi questi quartieri sia per quelli che già in qualche modo li conoscono ma che desiderano approfondire approfondire il tema ripeto domenica mattina alle ore 10 planetario porta venezia è importante prenotarsi la passeggiata non è gratuita non prevede costi però a posti a posti limitati quindi gli interessati facciano facciano in fretta a mandare una mail a visite di architettura vi ringrazio a domenica grazie